ciao continuiamo a guardare i modifier e guardiamo questo noise che è interessante per l'animazione allora lo disattivo momentaneamente questo non è animato questo gatto non è animato però se attivo noise come vedete appare un'animazione cos'è noise è l'applicazione di elementi casuali ad alcune cose del nostro disegno quindi in particolare quello che è stato reso rumoroso randomizzato è di molto la posizione dei segni position 0 50 di tutto quanto in realtà appunto se vado a portarlo a zero vedo che non succede niente se lo alzo appena appena posso vedere che la posizione dei segni appunto si muove leggermente magari non è la posizione ma è la strength che voglio regolare quindi l'opacità oppure è la thickness e quindi potete vedere che viene resa casuale quella le uv hanno senso solo nel momento in cui abbiamo delle texture che si muovono e poi in base allo scale offset e seed del nostro noise possiamo cambiare nell'aspetto facciamo una prova dividendolo in livelli no adesso noi sappiamo di avere le ombre le linee e i colori come livelli in questo disegno quindi io posso applicare il noise solo per esempio al livello dei colori e aumentare la position e magari position no strength non ha molto senso vedete si spostano diciamo si modificano la posizione dei segni del colore oppure potrei farlo solo sulle linee e quindi adesso sono le linee che si muovono magari può essere leggero ed ha questa idea di diciamo disegnato a mano in un certo senso con i segni che appena appena si muovono potrei anche ragionare a livello di materiale quindi magari avrei potuto darlo solo al materiale linee invece che a un solo livello e quindi come al solito ricordatevi che influenza è molto vario quindi aumento leggermente la sensazione qui vedete noise scale se la alzo vedete il rumore è molto più fine 0 è molto ampio 0,5 sono una vibrazione più fine 1 è una vibrazione molto molto alta ed è il massimo quindi è come al solito tutti questi valori potrebbero essere regolati quindi immaginate per esempio di fare l'animazione del gatto che trema per il freddo potrebbe essere semplicemente fatta per un attimo aumentando e diminuendo la scala di questo noise e anche questo valore l'offset è diciamo la sua posizione la posizione di queste ondine nel tempo e quindi diciamo che se teniamo animato non cambia molto però nel caso che il disegno sia fermo con offset è come se mi spostassi nel tempo tenendo il disegno fermo. Seed è un valore di casualità e quindi nel caso che noi avessimo due cose vicine che ci sembra che siano troppo simili possiamo provare a cambiare il seed del noise per dargli un aspetto diverso un'animazione leggermente diversa. Questo randomize è importante per l'animazione perché in pratica se io non lo metto viene fatto il noise vedete se alzo la scala la si vede però viene fatto una volta per tutte cioè tutti i fotogrammi sono uguali e quindi non si muove altrimenti con randomize appunto si può notare che ogni volta viene cambiato la casualità e quindi mi dà questa sensazione di movimento nel segno. Il valore di step qui se lo alzo decide ogni quanto viene modificato quindi se io lo mettessi in maniera molto vistosa ogni dieci vedete ogni dieci keyframe viene cambiato e quindi rimane fermo. Se lo metto a uno vibra di continuo mentre invece se lo scegliessi keyframes viene modificato solo quando c'è un keyframe siccome questo non è animato e quindi non ha keyframe qua sotto non lo fa mai. Quindi questo è un modifier che ci permette a un disegno anche statico di dargli in animazione una certa morbidezza e sicuramente l'avrete visto in alcuni casi in alcune animazioni i segni che un pochino si muovono. Ci permettono anche quando il fotogramma non cambia di molto e quindi rimane uguale a se stesso aggiungendo un po' di noise ci dà questa sensazione di movimento davvero con dei numeri molto piccoli ci dà l'idea che il disegno si muova e quindi può renderlo più interessante nel contesto di un'animazione. Grazie e alla prossima!